Buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento con 8 gol, il salotto del grande calcio di 8 Channel. Oggi è lunedì 7 febbraio, il Benevento è reduce dallo 0 a 0 casalingo con il Parma, una partita brillante quantomeno per tre quarti che il Benevento avrebbe meritato certamente di vincere. In classifica non fa un passo avanti, pareggiano tutte le altre, resta più o meno tutto invariato, solo la cremonese fa un passo avanti rispetto a tutte le altre avendo battuto il Monza per 3 a 2, analizzeremo tra poco anche la classifica e tutti i momenti della partita di sabato tra Benevento e Parma, poi ci proietteremo verso il prossimo match, un big match con la B maiuscola tra Lecce e Benevento in programma domenica al Via del Mare. E lo faremo con la firma storica della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, buonasera Mimmo. Buonasera, bentrovati. Ex ala e calciatore dunque del Benevento, Giancarlo Zotti. Buonasera, buonasera a tutti. Sonia Lantella, oggi più che mai Glamour, Calabro, Calzature e il trucco di Letizia Forgione, che è come al solito meraviglioso, la responsabile dello sport qui a 8 Channel, Sonia Lantella. Sonia, buonasera e ben ritrovata. Buonasera. Buonasera a uno degli ultimi arrivati in casa Benevento, un giocatore di qualità e di grande esperienza, che ha al suo attivo già due campionati in Serie A con il Lecce e con il Crotone. Viene dal Pordenone, ma in prestito dal Crotone, quindi il tuo cartellino appartiene dal Crotone. Lui è Jacopo Petriccione, centrocampista. Buonasera Jacopo. Ciao, buonasera a tutti. Ben trovato, lo conosceremo un po' più a fondo oggi, anche perché è uno degli ultimi arrivati, quindi a Benevento non lo conoscono benissimo, anche se nel panorama italiano si è già messo in luce e in passato in maniera piuttosto importante, tant'è che qualcuno gli ha già rifilato qualche nomignolo ingombrante, poi vedremo. Allora, voglio partire subito dalla prima slide, perché Benevento Parma ha lasciato un po' la mare in bocca. Ha lasciato un po' la mare in bocca perché il Benevento ha giocato un'ottima partita, un'occasione sprecata per guadagnare punti sulle pretendenti alla promozione diretta. Certamente, Sonia Lantella, è stata un'occasione sprecata quella di sabato. Ma è stata una partita strana, sicuramente un passo in avanti rispetto alla prestazione in casa dell'Alessandria, dove effettivamente era stato un Benevento sottotono, inguardabile. Però, secondo me, nella sfida col Parma ha avuto anche delle occasioni interessanti con Insigne, con Improta, però forse è stato un po' discontinuo, nel senso che nel primo tempo è partito subito col piede sull'acceleratore, c'è stato anche quel gol, poi chiaramente annullato dal VAR per una posizione di fuorigioco di Teio. Eccolo qua, lo guardiamo. Poi ci sono stati dei momenti un po' di stand-by, perché il Parma è una squadra che non gioca, però è capace anche di non farti giocare, di soffocarti sotto questo aspetto, per quanto nonostante ulteriori acquisti nel mercato di riparazione, credo che abbia delle individualità interessanti, ma non ha un gioco di squadra il Parma. Quindi ovviamente non mi ha impressionato, però è fastidioso nel senso come avversario, perché poi non ti permette di giocare. Nel secondo tempo, anche in questo caso, trovo che sia stato un benevento, dove ha fatto vedere delle belle cose, però in certi momenti si è addormentato. Non è ancora, ecco, se vogliamo dirla tutta, quella squadra che abbiamo visto in precedenza, in quelle, io dico, quattro vittorie consecutive. Non ci metto quella col Monza, perché già lì era una squadra diversa. Perché io credo, poi ne parleremo, dimmi tu, che dietro a questa involuzione c'è anche il fatto che mancano pedine importanti al Benevento. E poi non ce lo dimentichiamo, c'è stato effettivamente, ci sono state due settimane di lavoro, ma Caserta non ha potuto comunque seguire tutti i suoi calciatori, perché tra Covid, infortuni, condizioni non ancora al top degli ultimi arrivati, tipo Farias, non gli hanno permesso poi di lavorare e di ridare continuità ad un Benevento che ora a gioco forza deve trovare equilibri nuovi, perché anche in attacco si cambia molto, magari non in termini di qualità, ma in termini di caratteristiche. E chiaramente la squadra deve adattarsi a un nuovo tipo di attacco che è completamente diverso da quello di prima, dove sappiamo benissimo che la Padula è uno che attacca molto la profondità, forte è uno che torna anche indietro, ma forte è anche uno abile di testa, per cui è una squadra che adesso deve crossare di più rispetto al passato, dove sappiamo benissimo che erano anche sterili cross, perché poi in mezzo non c'era nessuno a prendere quei palloni. Quindi secondo me è un Benevento che deve ancora registrare, registrarsi meglio, è un Benevento che ha fatto un passo in avanti e fuori discussione, una buona partita, meglio del Parma, ma non è quel Benevento che mi aveva colpito. Non ha ancora il guizzo verso la promozione, manca il guizzo definitivo. Non voglio accontentarsi, capito? Considerare questa prestazione come lo stadio ultimo del Benevento significa dire che il Benevento non otterrà la promozione diretta, ok? Devi avere qualcosina in più, quello che abbiamo visto fino a prima della sosta per Covid dell'Interabit. Con le quattro vittorie consecutive. Tra poco vorrei coinvolgere Mimmo Malfitano e Giancarlo Zotti nel commento del gol annullato a forte, perché è un'azione singolare, particolare. Però Jacopo Petriccione che ha partecipato al match, è entrato al 79esimo, quindi 11 minuti più recupero per te, che venivi da qualche giorno di riposo forzato, per intenderci, dovete essere allenato poco, forzatamente assente agli allenamenti. Ti chiedo innanzitutto come è stato l'approccio con il nuovo spogliatore, nuovi compagni di squadra, un nuovo ambiente, una nuova dimensione? Ma devo dire che non è retorica, ma veramente ho trovato un gruppo che mi ha colto molto bene, un gruppo unito, veramente conoscevo già qualche compagno, quindi è stato più facile. Chi conoscevi, per esempio? Ma Teglio, Improta, Masciangelo, insomma poi i ragazzi li conoscevo, e quindi è stato più facile integrarsi e devo ringraziarli, perché veramente entrare in un gruppo così è più facile. Hai scelto Benevento, è stata una scelta, forse a Pordenone, rispetto ai tuoi standard del passato, Lecce e Crotone eri stato protagonista, insomma, in Serie B e in Serie A, in Serie B con la promozione del Lecce, poi in Serie A, di cui tu l'avevi segnato un gol allo Spezia, a Via del Mare, decisivo per quella promozione del 2018. A Pordenone probabilmente, insomma, il tuo ruolo era un po' sacrificato, cioè in disparte, non era sugli standard precedenti, per cui hai preferito, diciamoci, cambiare e venire in una piazza dove c'è la possibilità di avere soddisfazioni. Sì, purtroppo ho scelto a Pordenone perché mi sembrava un progetto importante, un progetto buono, però purtroppo le caratteristiche mie e quelle della società erano un po' diverse, quindi è stato importante cambiare e sono stato fortunato perché è stata una società importante, una società che fa un certo tipo di calcio, che secondo me si sposa con le mie qualità. Lo conosceremo meglio anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del suo passato, il suo legame con Lecce, che poi è il prossimo luogo dove andrà a giocare il Benevento, domenica prossima, è nata tua figlia a Lecce, tua figlia a Lecce e quindi hai dei legami particolari. Però io tornerei, e lo chiedo alla regia di ritornare sul gol annullato a Forte, eccolo qua, magari rallentandolo un attimo, vedete c'è questo lancio, eccolo qua, Teglio tenta di intervenire sul pallone, non tocca il pallone, è lui in fuorigioco, è lui in fuorigioco, è Teglio in fuorigioco, poi l'azione prosegue, passano 12 secondi, si arriva al cross di Letizia, eccolo qua, forse anche più di 12 secondi, colpo di testa di Insigne e Forte va in gol. Mimmo, è un'anomalia, Teglio non tocca neanche il pallone, è possibile che dopo al bar l'arbitro Marinelli vada al bar e decida per l'annullamento del gol? Purtroppo, vedi, lui, ecco, guarda, non la tocca la palla. Non la tocca, però gli va, gli va incontro alla palla e quindi è già partecipe all'azione. Certo, è singolare. Sì, non è singolare, Gianluca, perché tu sai bene che esiste il fuorigioco attivo e questo sarebbe passivo. E quindi di conseguenza comunque non tocchi la palla ma partecipi all'azione, quindi in qualche modo sei protagonista. Il problema, secondo me, è che ci sono delle valutazioni da parte del VAR e soprattutto del direttore di gara, non parlo adesso dell'episodio che ha visto coinvolto Marinelli in Benevento Parma, ma in generale sia in Serie A sia in Serie B secondo me non c'è un metro di valutazione giusto e soprattutto uniforme da parte di chi dirige le partite e da parte di chi è designato al VAR. Perché ci sono degli episodi che ovviamente sono uguali ma con interpretazioni diverse. Probabilmente, probabilmente, senza il VAR questo gol sarebbe stato... Ma anche perché succede 15 secondi prima. Sarebbe stato validissimo. Ma io non credo che... Allora, devo dire la verità, non è stato neanche semplice per il VAR andarlo ad individuare. Non so Giancarlo Zotti che ne pensa. Perché è arrivato a 15 secondi prima poi della concretizzazione dell'azione. Cioè, è un caso particolare. Non credo che anche col VAR altrove lo avrebbero fischiato sempre. Ma vedi, già il fatto che si è dovuto intervenire il VAR vuol dire che è stato... che è sfuggito sia all'arbitro e sia al suo assistente. E l'intervento del VAR tu dici dopo 12 secondi ma ne sono passati di più perché dopo c'è stato il festeggiamento per il gol è soltanto dopo. Quindi io credo che sia passato un minuto e più l'arbitro è andato ad accertarsi. richiamato dal VAR. E poi anche un groviglio di giocatori perché Teglio sta rientrando. Quindi è una situazione... Giancarlo, poi io voglio sentire se Jacopo e Petriccione se hanno commentato tra loro magari nello spogliatore l'episodio. Giancarlo. Ma guarda, io stavo allo stadio proprio in linea poi dove è successa l'azione. Quindi inizialmente davvero non si è capito. Quando si è stato chiamato il VAR nessuno si rendeva conto di perché. Che cosa era successo. Ma guarda, anche dalle immagini non si riesce a capire. E perciò dico, perché c'è chiaramente Teglio, sì, tutto quello che dice ecco, rientra dal fuorigioco. Però considerarlo, cioè, è molto interpretativa. Di solito il VAR interviene per vedere le linee in episodi molto netti e definiti. Qui siamo sempre una libera... Cioè, partecipa effettivamente e dà un danno all'avversario il movimento di Teglio. Come fai a dire... Hai capito? Sei attivo, sei passivo. E questo è il giocatore. E ho visto in modo molto chiaro. Anche dopo, il VAR è stato molto tempo prima di andare poi, di chiamare l'albietro e mandarlo a vedere. Quindi, non lo so. Secondo me, in questo caso è stato penalizzato. Non lo so se in un'altra situazione o con altre squadre... Non credo che tutti lo avrebbero chiamato anche con il VAR a disposizione. Come l'avete commentato nello spogliatoio, Jacopo, questo episodio? Inizialmente nessuno si era accorto veramente del fuorigioco. Però, rivedendo le immagini, l'arbitro ha preso regolamento alla lettera e ha ficato fuorigioco. È un peccato, veramente, perché secondo me l'avessimo sbloccato subito sarebbe stata un'altra partita. Ne vedi, scusami? Non è tanto sul fuorigioco l'interpretazione, perché sulle azioni di fuorigioco c'è poco da dire, perché l'immagine è chiara e dove, secondo me, il lavoro del VAR e degli arbitri è particolarmente difforme. È sulle interpretazioni di altre questioni, tipo un calcio di rigore, cioè un fallo da rigore, oppure un'entrata come tipo quella di ieri, ora non mi ricordo che partita era, che l'arbitro ha prima ammonito, poi richiamato dal VAR, era espulso a Roma. Ecco, quindi... Roma-Genova. Roma-Genova, ma ieri c'è stato un altro episodio, ma non mi ricordo chi è che ha... Forse Torreira, se non vado errato, che è stato espulso. Non mi viene. Comunque, sono vari episodi che hanno... ai quali viene data un'interpretazione diversa. E secondo me è più qui che si può parlare di condizionamenti e magari di, come dire, di caratterizzare in maniera diversa una partita rispetto a questo che purtroppo là è tutto... C'è un piede in fuori gioco. C'è un piede e là stanno a volte anche mezza mano ti fischiano il fuori gioco. Il VAR c'è per questo motivo. Sì, andiamo a pensare alla motivazione, al perché del VAR. Il VAR c'è proprio per aiutare l'arbitro a vedere il piede, la mano. È normale. Nel momento in cui il VAR chiama, l'arbitro non può fare diversamente perché il fuori gioco c'è. Sai qual è, Sonia, la cosa singolare che ho dicevo singolare? È che l'evoluzione di questa azione, poiché questo fuori gioco, peraltro millimetrico, è arrivato molto tempo prima del gol e in una situazione difficilmente valutabile proprio perché c'era un vortice di giocatori, uno che rientrava, altri tra avversari e giocatori del Benevento che andavano, si riusciva a malapena a capire cosa fosse successo. Poi sono passati 20 secondi. Io sono convinto che anche con il VAR... Però il VAR chiama nel momento... Aspetta, il VAR chiama dopo che l'azione si è conclusa. Perché l'azione si deve concludere perché poi l'arbitro è chiamato a decidere. Quindi è chiaro che non può chiamare prima e bloccare un'azione. L'azione deve sempre concludersi perché poi aspetta comunque all'arbitro l'ultima parola. Per cui l'arbitro deve andare a vedere dopo che si è conclusa l'azione. Perché se poi per l'arbitro non era fuori gioco avevi bloccato un'azione prima. Quindi quello si deve concludere. Non c'è stato l'intervento dell'assistente, cioè del guardaline che in genere fanno concludere l'azione e poi tirano su. E lui, l'assistente di destra non l'ha fatto. vogliamo dire che sono stati molto attenti. No, diciamo, a differenza d'altre volte sono stati molto ma molto attenti quelli del VAR. Cioè sono riusciti a individuare un momento, hanno fatto ciò che spetta al VAR sbagliano negli altri casi, capito? Ecco, brava. Cioè il discorso è che è da contestare secondo me l'utilizzo del VAR per tante altre... Con interpretazioni di formi. Esatto, con interpretazioni di formi ma quando si parla di fuori gioco credo che sia talmente evidente che non puoi dire niente, non puoi dire sì però è 5 centimetri. Però dovevamo analizzarlo perché comunque è stato un episodio insomma che non ha consentito purtroppo al Benevento di andare meritatamente in vantaggio e di vincere la partita. E allora morale e classifica la classifica è sempre diciamo così confortante per il Benevento nonostante qualche passo falso due punti nelle ultime tre partite un solo gol segnato sono tutti temi che tratteremo però vedete Lecce 41 punti Pisa 40 Brescia 39 Cremonese 38 Frosinone 37 e Benevento 36 al sesto posto ma a ridosso praticamente delle prime ci sono sette squadre in sei punti quindi mi sembra che sia tutto aperto nel campionato di Serie B anche per le promozioni dirette diciamo bene Jacopo Petricione tu te ne intendi le promozioni quindi sì ma capito di Serie B è sempre stato così basta vinci due partite sei sopra ne pareggi una e perdi un'altra sei quarto o quinto però siamo tutti là quindi credo che questo mese qua sia fondamentale ci sono sette partite ogni tre giorni e quindi chi uscirà bene da questo periodo qua si potrà giocare la promozione fino al 19 marzo ci sono dieci partite adesso quindi sono una partita ogni quattro giorni l'abbiamo analizzato già più volte in questa trasmissione però ieri una cosa non ha convinto proprio l'ultimo quarto d'ora di gioco della squadra guardiamo questa slide e poi ascoltiamo anche la slide finale in salita le dichiarazioni di Fabio Caserta non di ieri ma dopo la partita con la SPAL perché anche nel finale della partita con la SPAL la squadra ha accusato un po' di fatica e diciamo l'approccio a quel finale fu analizzato ricordo proprio ai microfoni di 8 channel da Fabio Caserta dobbiamo ascoltare quelle dichiarazioni poi torniamo in studio sì negli ultimi 15 minuti un po' la squadra ha subito un po' il calo fisico ma era normale perché noi avevamo fatto una grande partita giovedì mentre loro no e quindi abbiamo avuto poco tempo per recuperare le energie e tanti giocatori ancora sono in fase di recupero per via del covid per via di tante situazioni quindi è normale male un po' di calo fisico la cosa ripeto la cosa forse negativa oggi è che quando hai tante palle golli devi chiudere le partite perché purtroppo poi rischi con un episodio di complicare un po' una partita complicare i piani e quindi purtroppo questo è quello che è successo oggi e allora avete sentito Spal Benevento tre partite fa da allora c'è stata la sconfitta ad Alessandria e poi il pareggio di sabato con il Parma Sonia quest'ultimo quarto d'ora evidentemente il Benevento da Ferrara non si è ancora ripreso rispetto all'ultimo quarto d'ora di stanchezza che evidenzia in partita è anche un po' quello che dicevo all'inizio comunque ci sono stati altri casi di covid calciatori che non erano al meglio della condizione basti pensare insomma da Campora che si era allenato soltanto gli ultimi due giorni perché aveva preso una botta nella sfida con l'Alessandria e quindi aveva saltato praticamente tutti gli allenamenti e ha dovuto comunque giocare col dolore perché anche parlando insomma nei giorni prima con lo staff medico con il responsabile D'Andrea diceva proprio questo giocherà dipenderà dal suo grado di sopportazione perché il dolore c'è e ci deve convivere in questo periodo in Prota era rientrato bene ma da un lungo diciamo da un lungo stop perché non giocava da tempo guardate queste immagini inizio dicembre addirittura ed è evidente insomma che la condizione si fa sentire sono state importanti anche le parole di Barba proprio nella post gara con la Parma dove ha detto io ho avuto il covid sì sembra sono stato asintomatico è durato poco però dalle analisi il covid c'è e comunque si sente ci vuole un po' di tempo per tornare ad essere quello di prima e secondo me la squadra sotto questo aspetto sta è condizionata da più fattori dalla condizione fisica poi per motivazioni diverse perché c'è chi è stato colpito dal covid chi è arrivato a gennaio deve ritrovare la condizione chi magari è reduce da un infortunio come in Prota da un lunghissimo stop perché non giocava da tantissimo tempo poi ci sono i nuovi equilibri che gioco forza devi ritrovare perché il reparto avanzato è completamente cambiato e poi sicuramente ecco il discorso di assenze assenze importanti perché se noi andiamo a vedere quando il Benevento ha ritrovato o meglio ha trovato la vera identità c'era Elia Elia sulla destra c'era Viviani a centrocampo c'era in Prota che insomma aveva ritrovato la condizione e in effetti se noi andiamo a vedere giocando il Parma e questo è giusto spiegarlo col 3-5-2 Caserta ha voluto puntare sugli esterni un po' più di spinta per questo non avendo Elia ha preferito inserire in Prota a destra con Letizia a sinistra che tra l'altro ha fatto la bellissima prestazione secondo me Letizia però in questo modo per avere questo questo sprint sulle fasce tu comunque hai perso in avanti perché in Prota come esterno offensivo quando avevi Elia terzino ed in Prota esterno offensivo comunque avevi una pericolosità maggiore e quindi se vai a vedere quel Benevento è cambiato tanto perché in Prota lo recuperi ma non il suo ruolo perché lo metti terzino e lì dici ma perché lo metti terzino mettilo nel suo ruolo però lo ha spiegato perché c'è un'esigenza l'esigenza praticamente è di avere più gamba sia sulla sinistra che sulla destra e l'avrebbe avuto a destra con Letizia ma l'avrebbe persa con Masciangelo a sinistra e poi al centrocampo l'abbiamo già detto Calò ha caratteristiche diverse da Viviani Calò gioca davanti alla difesa è molto più statico Viviani si fa vedere di più acquista centimetri si va a prendere il pallone è completamente diverso e poi è chiaro che secondo me anche per quanto riguarda l'attacco qualcosa giocoforza dovrà cambiare nelle dinamiche di gioco perché hai un attaccante con caratteristiche diverse Forte ha giocato col Parma dal primo minuto nelle altre due partite c'era Moncini che comunque aveva preso poco parte a quel benevento del girone di andata anche con Moncini è stata una sorta di cambiamento e in effetti insomma parlano i numeri nelle ultime tre partite quanti gol ha fatto il benevento un gol un gol con la spalla questo lo schifo allora Mimo Alfidano ce l'ha insegnato anche Inter Milan il derby che ha riaperto il campionato in Serie A le partite durano 90 minuti non 75 sicuramente ma io credo ieri per esempio il benevento ho l'impressione che non abbia creduto fino in fondo perché diciamo sul piano del gioco sicuramente è stato superiore al Parma almeno per quello che io ho visto ieri in tv ma soprattutto il Parma più che sul gioco ha come dire utilizzato molto le individualità avendo due tre giocatori di esperienza e di qualità perché Vazquez lo stesso Pandev anche se mi sembra un ospizio il Parma con tutto il rispetto Simi c'è Simi che è stato molto bene la barba da Glick facciamo i complimenti a Glick perché ha fatto una bella prestazione e infatti stavo dicendo che ieri stavo dicendo che ieri soprattutto la coppia centrale barba Glick sono stati diciamo eccellenti perché non hanno assolutamente consentito dal Parma di essere pericoloso negli ultimi 16 metri c'è quel tiro di Vazquez sul finire della partita quello ti può creare il problema perché essendo un giocatore di grande qualità la palla te la sa anche mettere bene quindi egli il tiro non gli è riuscito però poi per quanto riguarda il resto Pandev ormai è andato a svecchiare lì a finire quest'anno a Parma ma io non credo che abbia piuttosto il rammarico secondo me scusatemi se faccio un passo indietro ma il rammarico sta nella sconfitta di Alessandria cioè lì è stata una resa capito è stata una resa incondizionata perché come dire farsi sopraffare in quel modo da un avversario che tutto sommato più modesto modesto sì è un avversario che soltanto da un paio di settimane è venuto fuori dalla zona retrocessione adesso sta nel play out praticamente eccola quindi c'è il play out col Cosenza se il campionato si chiudesse oggi è lì secondo me che il Benevento ha perso tre punti importanti e quello condiziona una classifica che sicuramente sarebbe stato più alla portata del Benevento per quello che è la qualità dell'organico soprattutto anche dopo il calcio dopo la sessione invernale di mercato perché qui abbiamo Petriccione noi parlavamo del centrocampo ma lei è un giocatore di grande dinamismo e di qualità tecniche quindi sicuramente sarà un elemento che Caserta a presto utilizzerà perché credo che sia stato preso proprio per garantire al centrocampo quella dinamicità che magari in questo momento non c'è e poi ovviamente c'è l'interrogativo dell'attacco perché la Padula è un giocatore di categoria superiore ovviamente forte come giustamente Sonia nella sua analisi faceva notare ha caratteristiche diverse cioè adesso il Benevento deve lavorare soprattutto l'allenatore ad un tipo di tattica diversa per consentire quantomeno a forte di sfruttare le sue doti nell'area di rigore cosa che invece la Padula riusciva a capitalizzare anche partendo dagli ultimi 20 metri quindi è tutta una questione adesso di assestamento perché i nuovi dovranno inserirsi sicuramente perché vanno inseriti perché sono giocatori come lui di qualità e di dinamismo come forte che finora i gol in questa categoria li ha garantiti quindi bisogna soltanto inserirle avere il buon senso di aspettare un attimo non troppo ovviamente perché il treno qui la classifica inizia ad allungarsi tu non puoi consentirti più di perdere punti allora noi ci fermiamo nel frattempo a Salerno Salernitana Spezia ultima gara della Serie A 24esima giornata sono sul 2 a 2 alla fine del primo tempo due rigori per lo Spezia che hanno pareggiato i momentanei vantaggi 1 a 0 e 2 a 1 della Salernitana che ha segnato due gol con l'ex giocatore del Napoli e del Torino Verdi andiamo in pubblicità tra poco in collegamento con Enrico Fedele cercheremo di capire se c'è un problema gol in casa Benevento conosceremo ancora meglio Jacopo Petriccione perché la prima domanda che gli faremo è ti trovi più a giocare da centrale da regista o da mezzala pubblicità a tra poco Rieccoci in diretta 8 gol il salotto del grande calcio di 8 Channel con Mimmo Malfitano dalla Gazzetta dello Sport c'è Giancarlo Zotti con noi ex giocatore del Benevento Sonia Lantella e Jacopo Petriccione centrocampista del Benevento arrivato nel mercato di gennaio e in collegamento con noi il dirigente più navigato di lui non so se ce n'è un altro a livello nazionale Mimmo Malfitano dice no Sonia Lantella dice no Giancarlo Zotti dice no anche Jacopo Petriccione pare abbia detto no caro direttore Enrico Fedele buonasera io ringrazio tutti buonasera ma questo è un indice che ci siamo avanti metti allora direttore ne approfittiamo per lanciare questo quesito guardiamo questa slide la slide è c'è un problema gol ci sono Moncini è forte e non c'è la padula nella slide e poi diamo un'occhiata a questa infografica le partite a secco di gol del Benevento in questo campionato sono sette Parma Benevento Benevento Lecce Benevento Perugia Benevento Brescia Pisa Benevento Alessandria Benevento e Benevento Parma insomma tra queste sette ce n'è un gruppo legato ad avversari di rango cioè il Parma due volte il Brescia il Pisa solo due partite non sono contro Perugia e Alessandria e Perugia diciamo sì e poi tutte quante il resto sono tutti scontri una grossa impressione però insomma mi sembra che contro le grandi il Benevento abbia sempre stentato anche con la padula quando ha giocato il gol Fedele c'è un problema gol nel Benevento? questo è strano c'è un problema del goliatore del finalizzatore in realtà il Benevento io seguivo un poco voi un poco la Salernitana col telefonino guardavo la Salernitana e per televisione mi sentivo e l'analisi e di Mimmo e di Soglia mi sembra perfetta questa è una squadra che ha la forza negli esterni in basso che sono due ali nel momento in cui queste due ali con un Letizia pochi giocatori in serie hanno stato con un Letizia il quale mi ricorda molto Spinazzola come corsa io voglio di chi cresce ma facciamo però che succede a poca copertura esiste molto avendo tanti esterni bassi e tanti esterni alti deve avere dei giocatori che in campo devono vengere la partita devono fare più mollenti che più movimenti di lateralità cioè i vecchi mediani dei turisti e delle volte si fa prendere in contropiglia però la mia domanda non è questo è il gollo non è il gollo perché il gollo pure con tutto l'affetto per Forte il gollo Forte in serie B li ha fatti a Venezia mi pare 13 o 14 poi o 12 mi ricordo poi li ha fatti in serie C non è il goleador navigato Boncini i golli in serie B li ha fatti pochi la Padula per me pure si facesse 30 gol fa bene Rigorito e ha detto tu a Benevento scordatelo e fa bene perché ci sono delle regole il presidente sotto questo punto di vista merita 10 e 9 perché ha fatto capire chi comanda e bisogna rispettare allenatori e giocatori e su questo non c'è dubbio però la mia domanda è scusate ma il Benevento è partire per vincere il campionato e qua dobbiamo essere chiari a me sembra di no perché ci sono delle squadre uno su tutti e tu lo sai il Lecce innanzitutto per me non so se mi sono spiegato quindi il Lecce è venuto meno il Parma però è venuto fuori diciamo la Cremonese adesso sta venendo fuori il Frosinone quindi il Benevento è una squadra che doveva tentare di stare nei primi posti ma non aveva l'obbligo di stracciare il campionato perché noi abbiamo il Benevento di due anni fa si fermi direttore si fermi su questo punto si fermi allora voglio chiedere a tutti qual è l'obiettivo con il quale è partito il Benevento quest'anno comincio da Sonia è partito per la promozione diretta o no ma allora non è una domanda semplice perché perché ricordando le dichiarazioni del presidente Vigorito subito dopo la retrocessione e all'indomani della scelta di Fabio Caserta fu molto chiaro disse sarà un anno di assestamento per cui non punteremo subito a vincere il campionato un po' come la prima retrocessione quando ci fu la transizione con Bucchi e poi l'anno dei record di Inzaghi anche per questo attenzione ci fu la scelta di prendere dei giovani quindi di puntare su Viviani di puntare su Elia Carlo non è tanto giovane però comunque non è neanche quell'esperto di serie B diciamo così poi da un punto di vista di anagrafe non è giovanissimo c'era stata questa scelta di fare un mix tra esperti e giovani proprio perché doveva essere un anno di transizione quindi queste sono state delle dichiarazioni è anche vero però che come si suol dire l'appetito viene mangiando ad un certo punto chiaramente il Benevento ha deciso ha deciso di trattenere un certo Gianluca alla Padula che ricordiamola un ingaggio importante di un milione e sette ha deciso di trattenere Glick ha deciso di puntare su Barba su Letizia su Improta su Insigne con dei rinnovi Letizia ha rinnovato Improta ha rinnovato Insigne ha rinnovato Teio ha rinnovato Ioniza attenzione non ci dimentichiamo Ioniza ed è chiaro che questo indipendentemente da quelle che possono essere le dichiarazioni di un presidente che è sempre molto attento agli umori della piazza perché purtroppo l'esaltazione alle volte può andare bene la depressione mai poiché può essere una piazza che è abituata a un calzo nell'ultimo periodo di alto livello magari il presidente cerca di fare un po' il termometro per dire occhio però ora non ci aspettiamo di salire subito viviamo con più leggerezza questo campionato che purtroppo in termini di partecipazione colpa anche il covid non lo si sta vivendo appieno quindi ha voluto mettere un po' di leggerezza però nei fatti nei fatti c'è stato un mercato estivo al di là dei giovani che sono arrivati che poi alcuni si sono dimostrati fondamentali Elie e Viviani il Benevento non vince più o meglio non ha più quella continuità perdendo Viviani e Delia quindi comunque giovani interessanti ma voglio arrivare a gennaio è questo che voglio girare anche la domanda al direttore prendi comunque Forte prendi Farias prendi Petriccione non mi pare un Benevento che non voglia lottare per la promozione diretta poi è chiaro che non è detto che la promozione diretta lo ottieni attenzione c'è il Lecce c'è il Brescia la Cremonese è fuori dubbio che sono i giocatori soprattutto il piccolo Modric che è un giocatore come Mimolo ha descritto di grande dinamismo Gifuri stai attento Modric che Gifuri ti vuole fare dire se sei un mediano sei un giocatore di movimento un intermedio sei un regista questo stai a corte rispondi bene perché poi se dici che sei regista loro per avere il Cernet sei e dici ma com'è perché l'altro è giocatore che fanno regista in realtà tu sei un giocatore un intermedio proprio come Mose cioè di movimento il quale può aggredire inserisce piglia palla puoi fare anche il regista sei un delle 20 di movimento e poi andiamo a vedere che dice Sonia allora Forte ha fatto 12 gol in Serie B Moncini a Serie B non c'è lo manca dove fa ha visto di dubbi loro il Benevento il Presidente ha fatto degli sforzi sperando sempre in un recupero di La Padula il quale ha impuntato ha voluto fare poi il gradasso pensando che ci stavano tante squadre ma pare che tante squadre non ci stanno ora i campionati di Serie B si fanno con dei giocatori che sono avversi alla categoria io mi ricordo bene quello che ha detto Ligurito noi dobbiamo fare un campionato di transizione un allenatore giovane che mi pare fosse il primo o il secondo anno che andava in B dei giocatori giovani ma io sto dicendo questo per un motivo perché io sono nato statisticamente a Benevento e vivo a Benevento voi sapete che io tifo per il Benevento dove ho trascorsi i miei migliori anni nell'adolescenza e nella facionezza e mi sono creato come dirigente so la gente del Benevento che è 0,90 cioè allora mettiamoci con calma il Benevento deve stare nel gruppone non è in questo momento a mio giudizio attrezzato per spaccare il campionato ok però deve stare nel gruppone tre partite un punto mi pare o no no tre partite due punti due punti un gol è un gol poi metti anche un'altra cosa cioè è una squadra che ha troppi giocatori uguali in certi ruoli il Benevento tiene sei esterni eh sei 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 forse ci voleva qualche difensore un po' più veloce ma i dei ma si trovano in cielo però ha una grande cosa qual è la forza del Benevento la forza del Benevento è la società io ho sentito mi fa piacere Modric piccolo Modric che ha detto quando mi ha cercato il Benevento eh io perché è una delle migliori società in assoluto e quindi è questo che fa la forza di una squadra io sono convinto che se siamo meno ansiosi se non vogliamo spaccare le partite se le partite come giustamente ha detto Cifuni durano 90 minuti perché mi pare che nell'ultimo quarto d'ora noi rivediamo l'Inter di di Insaghi e guarda l'ultimo quarto d'ora si scopre si scopre e tolgono i migliori giocatori e entrano gli altri allora dico ci sono tante di quelle situazioni nelle quali purtroppo dobbiamo convivere e io fanno un appello ai tifosi perché mi sento tifoso lo sono più di qualsiasi altro senza un fris ho titolo per essere tifoso del Benevento per quello che mi hanno dato il Beneventario e il Benevento dobbiamo stare tagli abbiamo tutto cioè uno si classifica andando prima nel miglior posto possibile dei playoff e poi partita contro partita là si vede quello che succede quindi non parliamo c'è manco Torzini c'è manco Mediano a tutti manca qualcosa il Benevento ha qualche cosa che affanca il Napoli cioè la società gestita forse in una maniera diversa ma ha la forza della società e questo non questo valgono 10 punti nel campionato io ho visto che lei ha voluto anche spiegare al posto di Petriccione come gioca Petriccione io ieri l'ho sentito in radio addirittura ha spiegato a uno chef quale fosse la differenza tra il baccalà veneziano e il baccalà diciamo così napoletano perché Fedele è sempre in prima linea su tutto però guardiamo questa slide su Petriccione che abbiamo realizzato è un bel regalo il piccolo Modric eccolo qua Petriccione e Modric vedete insomma anche la somiglianza dal punto di vista estetico sono uguali allora Jacopo sei più mezzala o più regista ma onestamente non vorrei contraddire quello che ha detto però se dovessi contraddirlo sembra una risposta banale però ho fatto in carriera praticamente si è separito da mediano da mezzala e credo che in un gioco come quello del Benevento cambi poco nel senso ci vuole dinamismo in mezzo ci vuole qualità quindi far mezzalo fare il mediano davanti alla difesa credo che cambi poco veramente ma vi siete dati un obiettivo invece voi visto che si parlava di obiettivi quando parlate tra i compagni l'obiettivo è quello di arrivare tra i primi due poi beh è normale quando sei lì guardi la classifica uno spera sempre di fare il massimo non è che giochiamo per i playoff o qualcos'altro poi quello che verrà lo deciderà il campo come dico sempre quindi noi cerchiamo di dare il massimo per vincere tutte le partite poi alla fine si tirano le somme Zotti da Beneventano ti è piaciuto la celebrazione il messaggio ovviamente del presidente dei Beneventani Uniti Enrico Fedele sì vabbè lo sappiamo che Enrico è molto legato al Benevento io penso anch'io che il Benevento magari come diceva Sonia il presidente all'inizio non ha voluto alzare l'asticella però guardando i nomi che aveva il rosa e il Benevento una volta che poi sono stati confermati gente come Barba Click Lapadula stesso Letizia Improta quindi la squadra c'è non è che non c'è però io penso che soprattutto adesso poi con il mercato di gennaio il livello della serie B si è alzato moltissimo tutte le squadre si sono rinforzate il Brescia ha preso 3 o 4 giocatori il Lecce stesso già che già era forte quindi il livello è altissimo è chiaro però io la penso come il direttore la cosa importante è stare lì e non perdere il treno cioè nel senso se continui a perdere punti e ti stacchi allora no però se stai lì la serie B si è sempre decisa poi si può risolvere le ultime volte la serie B si è sempre decisa molte volte c'è stata sempre la sorpresa anche il Benevento è salito in A da quinto quindi l'importante è stare là ma c'è da dire una cosa che fino ad oggi possiamo dire che non è un'annata favorevole al Benevento ed è questo che potrebbe preoccupare un po' perché è un Benevento che ha perso in momenti fondamentali del campionato giocatori importanti e la continuità di gioco passa attraverso la continuità di prestazione dei calciatori e c'è da dire che ha dovuto purtroppo fare i conti contro la testa dico solo questo di Gianluca Lapadula perché non ce lo dimentichiamo mai e lo dobbiamo sottolineare la società non aveva alcuna intenzione di privarsi di quello che era all'occhiello del Benevento di quello che per dirla la caserta sposta gli equilibri poi è chiaro che c'è stato un comportamento del giocatore che addirittura si è arrivati al collegio arbitrale e il giocatore è venuto meno non accettato più nemmeno dal gruppo perché poi c'è un gruppo ci sono dei compagni ci sono gli umori ci sono le sensazioni assolutamente sì e il Benevento è corso ai ripari con degli acquisti che non sarebbero arrivati se non ci fosse stato il dietro front o meglio quell'atteggiamento di Gianluca Lapadula e sono delle situazioni che non mi pare che il Lecce abbia affrontato non mi pare che la Cremonese abbia affrontato ora il Brescia vedremo con l'esonero di Inzaghi cosa accadrà ma là insomma parliamo di altre follie però in questo momento io ti dico che il Benevento aveva tutte le qualità per essere insieme a Lecce ma ha dovuto affrontare delle situazioni di grande difficoltà e che ti fanno pensare che potrebbe non essere l'annata che potrebbe essere un Benevento che dovrà giocarsi tutto nei playoff bisognerà anche vedere come ha detto Petriccione questo mese cosa porterà il Benevento perché questo mese qua per i turni infrasettimanali è decisivo ma se il Benevento io ci metto la mano non avesse avuto il problema la padula e delle assenze importanti come dico solo due Viviani e Delia secondo me in questo momento era non dico insieme a Lecce ma un po' più sotto perché con l'Alessandra non la perdeva e magari con la Spal non la pareggiava allora no direttore si fermi si fermi direttore no no però con sé ma il calcio non si fa chiaro con sé e il mal io dico solo una cosa che questo è un campionato particolare ora la padula deve mettersi vicino allo specchio e deve dire caro come si chiama e non come si chiama Gianluca Gianluca caro Gianluca se va parli senza no dice quanta golla ha fatto in Serie A 3, 4, 5 massi tu sei un uomo amato a recuperarla non so se mi sono spiegato allora è fuori dubbio che la padula in Serie B ha fatto e fa la differenza ma quando si sono creati questi problemi certamente sono dei problemi grossi ma ora la padula non ci sta più la padula a bene bene sta da scoprire si fermi direttore perché devo andare da Mimmo Malfitano Mimmo allora avevi mai visto una situazione del genere parlando di la padula no vabbè lasciamo stare sta roba di la padula è allucinante non so prima chi credo Sonia parlava di regole di andrebbero sicuramente riviste cioè non me ne voglia Petriccione se dico che in questo momento il potere dei calciatori è superiore a quello dei dei presidenti delle proprietà soprattutto i procuratori parte e dico e questo ovviamente non va bene quindi il caso la padula andrebbe affrontato anche ad altri livelli bravissimo dal punto di vista istituzionale perché non è che un giocatore decide di non voler giocare e va bene così non gioca sta fuori intanto percepisce uno stipendio di 170 mila euro al mese e quindi in serie B ti lascia immaginare che cosa significa per i costi e il bilancio di una società di serie B detto questo dico anche dell'altro nel senso che io condivido quello che dice Enrico perché Benevento ha nelle proprie ambizioni una garanzia la garanzia ovviamente è la proprietà ed è vigorito che molto saggiamente ad inizio stagione non è che ha voluto mettere le mani avanti perché lui credo che sia un uomo talmente navigato un imprenditore talmente di livello superiore e noi l'abbiamo spesso detto che è il fiore all'occhiello dell'imprenditoria campana e l'ha detto per innanzitutto salvaguardare l'ambiente perché se tu parti dicendo dobbiamo vincere il campionato già dopo una retrocessione già crei comunque delle condizioni di tensione una condizione di tensione io invece a differenza vostra non credo che il Benevento sia fuori dal gioco dei due posti dei primi due posti perché perché fino ad oggi le squadre di testa ecco dal Lecce e arrivo al Monza fino ad oggi hanno avuto comunque un rendimento discontinuo perché se vogliamo il Frosinone che ha un punto in più del Benevento sarà un mese che ha ripreso a vincere ma prima non mi sembrava che avesse fatto tutti questi risultati anche la Cremonese esatto anzi anzi il Frosinone era addirittura in uno stato di crisi sembrava che qualcosa dovesse cambiare a Cremona è successo la stessa cosa a Brescia pur avendo io non credo che queste squadre che Cremonese Frosinone lo stesso Brescia e anche il Pisa abbiano organici superiori al Benevento qui entra in gioco la personalità il carattere delle squadre in questo momento l'unica che secondo me ha qualcosa in più alle altre è il Lecce ma strutturalmente ha qualcosa in più alle altre poi dal 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 secondo posto in giù secondo me è ancora tutto da giocarsi il secondo posto è alla portata del Benevento ad andare su e io poi ho calcolato infatti voglio aggiungere una cosa perché io sono d'accordo con Mimmo attenzione io dicevo proprio spiegavo anche al direttore dicevo questo guardando l'organico del Benevento e gli acquisti che sono stati fatti dall'estate a gennaio è un Benevento che non è inferiore a nessuna delle altre squadre i 36 punti sto dicendo che sono figli di disavventure o di momenti non felici che il Benevento ha dovuto affrontare e che evidentemente altre società non hanno affrontato perché se il Parma è diventato un cimitero degli elefanti è per volontà della società se la Padula decide di chiudere con Benevento purtroppo la società è vittima in questo senso qua non lo ha deciso se ci sono degli infortuni in un momento in cui erano i giocatori che erano diventati un pilastro magari inaspettati perché Caserta puntava su Calò e non su Viviani ma lasciamo stare questo però nel momento migliore vengono meno non un giocatore attenzione ma due o tre calciatori e lì a Viviani è in prota ma anche in prota che è rientrato adesso e non è chiaramente ancora al top ma non per condizione per continuità io quello dico per questo c'ha 36 punti ma per me è come le altre tranne il Lecce secondo una mia idea che mi sono fatto seguendo la serie B ci sono le squadre di testa che più o meno comunque si sono un po' rinforzate a partire dallo stesso Benevento per esempio che per me con Petriccione e Faria se il Benevento ha fatto il botto un po' meno io sono onesto sincero in attacco dove comunque secondo me la crisi è dovuta anche al fatto che non hai un attaccante un finalizzatore ma detto questo poi mi auguro invece che Forte possa riprendere faccia 20 gol e risolva tutti i problemi però in questo momento del campionato e qui il direttore non so se può essermi o meno di conforto in questo momento del campionato è necessario il carattere l'esperienza la determinazione perché le qualità tecniche ci stanno le squadre che stanno lassù le hanno ora queste qualità tecniche se non aggiungi le prestazioni caratteriali di determinazione è lì puoi veder fallito il progetto ma partite come quelle di Ferrara che ricordavamo prima lì nei minuti finali non puoi consentirti di prendere un gol del genere così come partite come quelle di Alessandria con giocatori di esperienza della categoria non puoi prendere 4 gol ad Alessandria poi dici ma vabbè ci può stare la partita la domenica che ti viene male per carità certo che ci può stare però quelle partite se le sbagli ti ritrovi una classifica del genere allora direttore fedele guardi le abbiamo ripescato perché insomma qui è la memoria e diciamo così la tecnica televisiva non ci abbandona quasi mai i gol di La Padula nelle ultime 7 stagioni vede? li vede anche lei? non muo' fare che c'è bisogno come fare sono 30 gol col Pescara in serie B poi in serie A 8 gol 6 gol 2 gol 13 gol 8 gol col Benevento in serie A e poi 10 di nuovo in serie B quindi come vedete la Padula arriva più o meno sempre in doppia cifra in serie B ma in serie A 13 gol non sono male però insomma nelle altre stagioni come vedete 8-6 2-8 quindi non insomma si ferma lì se portiamo il Goliadorre da 10-12 gol allora non so che aveva poco Goliadorre in doppia allora i Goli si chiamano Goliadorre coloro i quali nel campionato italiano di A di B o di C fanno per tre volte di seguito minimo 45-51 15-15 se non li fanno per tre anni di seguito sono delle meteore chiaro questo ce lo insegno Altobelli Bruzzi Guain Immobile come volete e chi lo per esempio in Lecce c'è un giocatore che fa i gol che magari non si vede abbiamo avuto pure a Benevento però fa i gol cioè chi ha il soggetto mostriamo lo preseghiamo a Napoli se hai un giocatore da 20 gol tu risolvi il metà problema se non ce l'hai e allora devi fare due o tre chi sono chi è abituato a fare un momento aspetta senti per trovare una metafora tu ti repito più vicino all'Obo Octa o più vicino a Dem Modric ma mi piace molto l'Obo Octa quindi quest'anno mi ha impressionato tanto quindi no no dico tu come caratteristica mi piace molto quindi mi rivedo più in lui dai fra i due giocatori mi metto due caratteristiche che lo rendono allora ti dico la mia questo è un ragazzo proprio per questo che io quello è andato a Gorizio io lo voglio da Firenze io lo seguivo perché mi piaceva il movimento cioè il giocatore che delle volte non è che ha il lancio differenziato lungo gli piace portare la palla gli piace andare a toccare un sacco di palloni a essere proprio un play perché è un giocatore di movimento è chiaro non è un giocatore di pensiero è veloce di passo c'è il difettuccio che ogni tanto porta un po' troppo la palla su questo non c'è dubbio però se avesse il contadinometri spaccherebbe perché è capace di bagliere hai detto che porti troppo la palla nella tua carriera qualche allenatore è successo eh te l'hanno detto qualche allenatore è successo sì direttore dove dovrebbe giocare a Lecce dove dovrebbe giocare al posto di chi visto il centrocampo col Parma o gioca a Viviani o gioca a lui no eh no le saliamo le saliamo le saliamo le saliamo va bene direttore allora ho gioca a Viviani o gioca a Viviani ah ok non l'avevo capito va bene io non credo che l'intenzione del Benevento quando abbia preso Petriccione fosse questa ma quelli sono tre eh appunto quindi credo che aspetta 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 no però guarda è importante noi dobbiamo capire anche la condizione chiaramente di Petriccione poi ce la dirà lui no perché Lecce è domenica e quindi ci interessa sapere sarà pronto dal primo minuto in termini di condizione perché sempre per quel discorso che le partite durano 90 minuti anche se ci sono i cambi e conviene sempre partire bene partire bene e poi dopo si vede invece che di giocarti la carta nella ripresa secondo me è vero che dici ma io già mi gioco un cambio ho capito ma è sempre bene partire al meglio perché non è detto che poi la riprendi la partita anche se ci metti dentro giocatori forti allora a me quello mi incuriosisce perché visto il centrocampo con Ioniza Calò a Campora volendo mettere Petriccione dal primo minuto contro il Lecce dove lo mettiamo? al posto di Calò o ad esempio al posto la butto così di Ioniza che a me ad esempio non è piaciuto tantissimo nella partita col Parma direttore dove lo mettiamo quindi al posto di Calò bravo 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 tu devi fare la tecna in questo modo faccio fare all'allenatrice della scuola femminile anche maschile oggi il giocatore un buon giocatore che non sta dando molto è Ioniza non si discute ora è un giocatore dal centrocampo in su ha anche qualità fisicità però non sta bene sono d'accordo con te che i giocatori devono partire bene e poi dopo magari si cambia però il centrocampo del Benevento ha bisogno di dinamismo perché Calò è lento a Campora è Fosforo mi senti ti c'ha la gamba e il giocatore è in pronta l'altro ragazzo è infortunato Ioniza gioca dal centrocampo in su c'è bisogno di un giocatore il quale dia dinamismo e presenza e credo che Modric se lo possa fare bene poi lui o gioca oggi o giocava sei mesi fa come ha fatto lui può giocare pure tre partiti in uno perché lui corre lui va a ruota libera lui va a ruota libera quello se non lo fermano nel campo esce dal campo e va a finire da moda allora dalla ruota libera andiamo ai saluti Mimmo Alfidano salutalo tu a modo tuo dai il direttore Enrico Fedeli che cosa quando parla lui per me è Vangelo io posso solo apprendere come ho sempre fatto in 35 40 anni di conoscenza anche 40 ciao direttore Fedeli 40 buona serata e a presto complimenti complimenti a tutti complimenti a tutti e faccio il bel evento ce la faremo non so se è diretto o in diretto ma ce la faremo grande il direttore Fedele che salutiamo e abbracciamo e noi ci fermiamo andiamo in pubblicità tra poco ci proietteremo verso Lecce Benevento e parleremo anche del problema spettatori che permane a Benevento io c'è una cosa che è proprio incomprensibile davvero rispetto agli altri anni della serie B ve lo mostreremo con dei dati gli spettatori sono venuti completamente a mancare cioè come se la gente improvvisamente a Benevento non abbia più voglia di seguire il calcio è vero che c'è stato anche il Covid però fra poco vi diremo tutto dopo la volta Rieccoci in diretta 8 gol il salotto del grande calcio di 8 Channel con Mimmo Malfitano storica firma della Gazzetta dello Sport Giancarlo Zotti ex Sala del Benevento Sonia Lantella responsabile sport di 8 Channel e Jacopo Petriccione centrocampista del Benevento è il Lecce di Marco Barone anzi Marco Baroni affronterà il suo passato con il Benevento della promozione in Serie A del 2017 anche quella indimenticabile vero Sonia ci colleghiamo proprio con Lecce e con il giornalista del quotidiano di Lecce Antonio Imperale Antonio buonasera a tutti voi ciao buonasera qui c'è Jacopo Petriccione che conoscerai bene perché insomma è stato un'icona del Lecce lo conosci anche tu Jacopo? sì certo mi conoscete bene Sonia Lantella responsabile sport di 8 Channel c'è Giancarlo Zotti ex giocatore del Benevento Calcio e Mimo Malfitano storica firma della Gazzetta dello Sport insomma abbiamo detto che il Lecce è la squadra migliore vista finora la più solida in Serie B e opinione diffusa anche a Lecce che insomma la squadra di Baroni abbia ottime possibilità di arrivare prima a questo punto è un Lecce che sta facendo davvero molto bene ci ha fatto temere qualcosa un po' solamente all'inizio quella sconfitta per tre gol con la Cremonese qualche incertezza sembrava il tempo necessario perché Baroni riuscisse a trovare a mettere a posto tutte le cose è riuscito a calibrare la squadra in maniera straordinaria ha dato un'identità ha dato personalità ha dato personalità alla squadra tant'è che può permettersi di variare tranquillamente le cinque sostituzioni per adattare puntualmente la partita la squadra alle esigenze in quel momento della partita adesso sì effettivamente è una squadra che fa 15 risultati utili consecutivi una delle serie più lunghe della storia del Lecce mi pare che ci sia stato Bolchi con le sue 19 forse Deglio Rossi se ricordo bene dopo con le 17 ma 15 risultati utili consecutivi due sole sconfitte parlano i risultati parla anche il gioco dobbiamo dirlo devo dire che il Lecce è vero che era la terza giornata però lo 0 a 0 con il Lecce qui è stata una partita particolare perché insomma il Lecce davvero ha rischiato di vincerla con due pali e molte azioni da golla ricordo molto bene c'è una slide sul Lecce sentimi un attimo a proposito di quella partita un ricordo carissimo per un amico che abbiamo perso tutti pochi giorni fa fu Gianni Di Marzio a telefonarmi alle 11 di sera a dirmi porca miseria che Lecce quest'anno e così ancora in altre occasioni un grande ammirato era innamorato del Lecce di Baroni quest'anno Gianni Di Marzio lo abbiamo ricordato anche la settimana scorsa Gianni Di Marzio perché è un caro amico era un caro amico oltre che grande persona allora Antonio ecco qua nel bunker Salentino Lecce non ha mai subito una sconfitta finora in casa cioè è imbattuto al via del mare Mimmo Alfitano insomma anche questo è un dato significativo per comprendere quale forza abbia questa squadra è un dato significativo perché rappresenta la solidità di questo collettivo una squadra che obiettivamente già in partenza si si prospettava si pensava che potesse in qualche modo essere come dire trainante per la classifica ed in effetti è così ha impiegato un po' di tempo perché c'è stata la partenza sprint del Pisa che forse è stata quasi inaspettata se vogliamo però devo dire devo dare i meriti a Sonia Lantella che ci ha sempre creduto io pensavo fosse un fuoco di paglia invece no devo dire che vedi in serie B nascono anche questi fenomeni diciamo passeggeri temporanei come è stato Lucca per esempio c'è entra avanti del Pisa che nelle giornate iniziali ha segnato a ripetizione poi è un po' scomparso si è fermato e comunque il Pisa continua a restare lassù mi sembra tanto il Napoli che ha avuto tre sconfitte in casa consecutive giocatori col covid infortuni Coppa d'Africa e sta al secondo posto quindi voglio dire la solidità in qualche modo è servita difensiva soprattutto esatto difensiva come la compattezza dell'organico poi il Lecce ha questa sua forza cioè è un organico già ben strutturato di per sé l'ambizione ovviamente con coda si è assicurato un centro avanti che in serie B segna facilmente 20 gol e avere la forza di poter avere un attaccante da 20 gol a campionato significa che c'hai mezzo piede in serie A però e qui vorrei coinvolgere un po' tutti su questo discorso ma Lecce Benevento Frosinone Brescia queste squadre che programmano la serie B per ritornare in serie A e sistematicamente si ritrovano nuovamente in serie B l'anno successivo ma che cosa manca alla programmazione di questi club perché io ho visto per esempio più da vicino il Benevento ovviamente che mi interessa essendo io campano quindi è chiaro che tifo Benevento però nonostante ci sia un presidente come dire importante come Vigorito che ha sempre lavorato con grande equilibrio infatti il Benevento è una delle società sane però manca sempre lo step successivo cioè si arriva in A e poi dopo si ritorna in B e questa è una roba che riguarda anche Lecce mi pare Antonio tu lo segui da sempre abbiamo qualcuno che lo può spiegare direttamente perché l'ha vissuta questa esperienza no Pelliccione è stato era un Lecce forse che prendeva troppe golpe di vero Pelliccione ma un Lecce che segnava un Lecce brillante ma forse un po' meno realistico di questo Lecce di Baroni che segna anche il migliore attacco del campionato ma anche la seconda o terza difesa mi pare con questo grande equilibrio che è riuscito a trovare a centrocampo quell'equilibrio che mancava un po' alla Lecce che era una sorta di banda del buco per quanto riguarda e quindi c'era un po' di presunzione forse rispetto al rapporto dei valori che c'era in Serie A Lasciami dire una cosa scusatemi perché il Benevento se vogliamo c'era riuscito nell'impresa di confermare la categoria se non ci fosse stato il famoso scippo del Santa Colomba perché ricordiamolo questa è una ferita una piaga che resterà credo per sempre tra i tifosi del Benevento tra gli stessi dirigenti i giocatori che hanno partecipato l'anno scorso ad un'annata incredibile che è soltanto un errore gravissimo da parte dell'arbitro e del VAR hanno negato al Benevento appunto la vittoria contro il Cagliari e ovviamente a quel punto la salvezza Devo dire che la programmazione del Benevento rispetto ad altre realtà l'anno scorso era stata diciamo così efficace fino a un certo punto poi sono successe delle cose strane però volevo capire dal buon Antonio Imperiale sai Antonio del quotidiano di Lecce da Lecce Petriccione probabilmente gioca io non lo so poi Sonia magari ci dirà qualcosa che cosa gli vuoi dire perché sarà avversario del Lecce domenica intanto sarà in difficoltà dal punto di vista emotivo sono sicuro perché a Lecce è nato suo figlio a Lecce una città molto che ha vissuto sul piano emotivo sul piano affettivo osò dire no poi giustamente una volta retrocesso ha ricercato la serie A perduta ma immagino che Lecce se la porti nel cuore come Lecce stima moltissimo Petriccione per quello che ha fatto in quegli anni in quegli anni leccesi sarà estremamente emozionato immagino quando sarà quel via del mare che resta come Benevento peraltro uno stadio dove il tifo sa esaltare e sa anche esaltare le squadre volevo aggiungere che anche nel Lecce ci sarà qualche giocatore che porterà Benevento nel cuore anche perché negli ultimi anni Lecce ha pescato spesso nel Benevento sembrava che il Benevento fosse diventata la fonte di ispirazione Lucioni Baroni Coda Mancosi Ma Prese Maggio Tuia insomma non c'è più Maggio però insomma negli ultimi anni ha pescato tanto dal Benevento e Lucioni è sposato con una Beneventana Certo Lucioni che è quello che è con tanto carisma che è un trascinatore un capitano un capitano vero che si è calato che tira sempre la squadra riesce a dare il massimo riesce ad essere accanto all'allenatore uno dei più grandi motivatori del gruppo la forza del Lecce peraltro specialmente quest'anno è proprio il gruppo questa determinazione di vedere e provare a farcela ad ogni costo ma voi conoscete Baroni prima di me e non e non vi devo dire niente l'anno della B di Baroni della promozione c'è da dire che già lì c'era un rapporto tra l'allenatore e Lucioni incredibile c'era un'unione favolosa infatti Lucioni stette anche male quando ci fu l'esonero di Baroni proprio perché avevano un legame incredibile e c'è da dire che con la promozione fu Baroni a volere coda al Benevento per l'annata in Serie A quindi fu proprio una scelta di Baroni che disse non potendo prendere i calciatori di Serie A perché Benevento era una new entry era al primo anno di B che si ritrovava in A disse voglio il meglio della B per me il meglio della B in attacco e coda e poi chiaramente se lo è portato se l'è ritrovato Antonio noi ti salutiamo qui però ti chiediamo in chiusura qual è l'atmosfera a qualche giorno a sei giorni dalla partita il Via del Mare sarà più o meno pieno per il match col Benevento ma compatibilmente con i limiti covid il Via del Mare sarà uno stato che si farà che si farà sentire il tifo sarà tantissimo adesso c'è un rapporto d'amore tra i tifosi e la squadra perché questa squadra convince proprio sotto l'aspetto dell'impegno sotto l'aspetto delle motivazioni della voglia di farcela ad ogni costo danno l'anima ai ragazzi e quindi la daranno anche contro il Benevento che diventa credo la partita una delle partite più difficili in questo momento peraltro brucia ancora quel rigore mandato sul palo proprio da coda per restare in tema a Como che avrebbe portato il Lecce a tre punti di vantaggio magari anche a giocare con una serenità maggiore da questo punto di vista con un Benevento che per me è una squadra straordinariamente forte grazie ad Antonio Imperiale quotidiano di Lecce buon lavoro buona serata a te nel frattempo abbiamo visto la media degli spettatori allora c'è una slide prima poi andiamo in pubblicità e ci ritorniamo perché forse è un po' forte però il pubblico di Benevento è fuori dai playoff al momento è fuori dai playoff perché è decimo in classifica il pubblico di Benevento guardiamo la media degli spettatori a ieri Lecce 8000 Frosinone 5005 Parma 5005 Reggina Brescia Pisa Vicenza Spalle Ascoli il Benevento è fermo a 3912 spettatori di media tra poco faremo anche i confronti con le situazioni legate ai spettatori al vigorito degli ultimi anni in serie B quindi degli anni passati cercheremo di capire perché i Beneventani in buona parte hanno disertato rispetto al passato il vigorito a tra poco Rieccoci in diretta 8 gol il salotto del grande calcio di 8 Channel andiamo subito a Jacopo Petriccione perché abbiamo visto che quando Antonio Imperiale da Lecce del quotidiano di Lecce ti ricordava i trascorsi a Lecce e ha ribadito quello che abbiamo detto perché tu sei molto legato alla città salentina sei diventato papallì so che hai fatto anche degli investimenti quindi ti sei legato al territorio da questo punto di vista tornerai con un pizzico di insomma come possiamo definirlo non imbarazzo commozione comunque sarai certamente emozionato no? Sì sì sarà speciale perché è la prima volta che torno al Via del Mare a Lecce ci torno spesso perché insieme a mia moglie abbiamo deciso di vivere lì in futuro abbiamo comprato casa lì ho vinto il campionato e sono diventato papà quindi è un legame forte che ho con la città però sono sicuro che quando l'arbitro inizierà a fischierare il calcio d'inizio tutto questo sarà zerato perché è il nostro lavoro e daremo il massimo per vincere la partita Veneto troverà un'atmosfera però bollente al Via del Mare il Via del Mare è sempre stato il punto di forza del Lecce l'anno che vincemmo il campionato mi ricordo che il giorno di ritorno l'abbiamo tutti vinte nel compareggio in casa quindi so cosa vuol dire giocare la Via del Mare però sono sicuro che possiamo mettere in difficoltà per il momento non le hanno perse non ne hanno persa neanche uno come dicevamo prima guardiamo eccolo qua nel bunker Salentino la regia è molto attenta alle nostre parole complimenti a Orlando Matarazzo e andiamo subito a vedere nuovamente quella slide legata agli spettatori allora abbiamo detto il pubblico di Benevento al momento è fuori dai playoff Benevento è decimo nella media spettatori di serie B 3.912 guardiamo il raffronto con gli altri campionati di B del Benevento 8.130 nel 2016-2017 promozione di Baroni 2018-2019 c'era Bucchi 10.669 più o meno 10.000 anche nel 19-20 appunto e 3.912 in pratica siamo ad un terzo in media degli spettatori paganti Sonia e Giancarlo Zotti da Beneventani dove sono quei 6-7.000 spettatori che di media affollavano il vigorito in serie B negli anni scorsi? Secondo me un po' non possiamo non tener conto del Covid perché chiaramente il Covid penso che gli spettatori li ha erosi un po' anche nelle altre piazze però quindi penso che anche a Benevento il problema Covid si sia fatto sentire soprattutto poi quest'anno dove è stato molto più virulente all'infezione e quindi senz'altro un po' si è persa poi un po' come dicevamo con te a microfoni spenti anche un po' è dovuto alla squadra che questo andamento un po' alta nell'ante come dicevi tu non è riuscito non c'è stato il guizzo definitivo che ti abbia riempito totalmente di soddisfazione quella certezza agli spettatori di essere una squadra che può lottare sicuramente per vincere il campionato e quindi un po' le entusiamo un po' non dimentichiamo che veniamo da una retrocessione e la retrocessione fatta in quel modo dove il Benevento era quasi tutti ormai a tre quarti di campionato lo davano per salvo quindi è stata una batosta che i tifosi però 3.000 spettatori col Parma con Buffon con Buffon in porta che a Benevento è un mito anche perché so che mi risulta che ci siano molti tifosi della Juventus qui quindi ed è stato anche applaudito l'altro giorno Buffon con una signora squadra comunque fatta di calciatori è vero di una certa età in qualche caso però il Parma è certamente un avversario meritevole di essere visto allo stadio 3.000 spettatori vieni una sconfitta da Alessandro ho capito ma allora voglio capire una cosa a Benevento i tifosi vogliono la promozione della squadra? ci credono nella promozione ai beneventani tifosi del Benevento interessa che il Benevento vada in Serie A sì o no? io credo che il Benevento comunque è un'attrazione anche per la provincia ok e ovviamente come diceva anche Giancarlo tutta la vicenda Covid sicuramente ha influito tantissimo però giustamente tu fai una una domanda giusta cioè si vuole andare o meno in Serie B anche perché in Serie A scusatemi ad un torto subito come quello della passata stagione lì monta la rabbia monta la voglia di ripiare non quanto durano un anno e no fammi finire non volevo intendere questo dico monta la voglia di 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 monta la voglia la rabbia e che cosa si fa in questi casi ci si unisce non ci si allontana cioè laddove c'è da recuperare qualcosa recuperare da un torto subito si cerca di scimentare quello che è il sentimento la passione popolare con le ambizioni del club e della squadra e io credo che non è che i tifosi del Benevento siano come dire freddi o poco passionali ho l'impressione che molto dipenda soprattutto da questo clima di timore che si vive in funzione della pandemia e io ti dico ancora di più se il Benevento dovesse fare un buon risultato domenica a Lecce vedrà che fra due no poi poi si giocherà mi pare un infrasettimanale di mercoledì sì c'è il programma qua allora io credo che l'Ascoli l'Infrasettimanale l'Ascoli poi in casa del Cittadella poi il Como in casa ora in casa sono tutti infrasettimanali questo non aiuteranno sicuramente attenzione quindi diciamo questo che il calendario prevede gli infrasettimanali tutti in casa per cui non aiuta il discorso è che non facciamo un discorso legato ai risultati perché per me non sarebbero tifosi perché i tifosi non possono essere figli di una sconfitta in casa dell'Alessandria il tifoso va a prescindere dal risultato non è una contestazione perché lo vediamo anche nei messaggi c'è una grande stima grande amore nei confronti della società il Covid ha influito ma è chiaro che parliamo di numeri troppo bassi rispetto alla pandemia la pandemia può portare rispetto a quei numeri a un 5.000 però noi siamo andati molto sotto non può essere una questione economica perché quando c'è stato quando ci sono stati i prezzi stracciati non c'è stato assolutamente un incremento anzi molti magari hanno fatto anche il biglietto ma non si sono presentati allo stadio e ha potuto veramente agevolare chi ci sono magari poverini non avevano possibilità economiche e ne hanno beneficiato ma i singoli ecco non ha portato questo grande collettivo allo stadio può essere invece secondo me a questo punto voglio pensare non tanto la retrocessione in sé per sé quanto il fatto che Benevento e provincia non abbiano potuto vivere allo stadio la serie A è come se ci fosse stato praticamente un'abitudine a dire abbiamo visto la serie A dalla poltrona a questo punto continuiamo a vedere la serie B cioè l'essersi privati privati prima di tutto del Benevento dei record di Inzaghi perché dopo marzo c'è stato praticamente la chiusura e quindi i Beneventani non hanno potuto festeggiare nemmeno la promozione quando il Pullman ad un certo punto dove c'era tutta la gente in piazza risorgimento il Pullman ha dovuto deviare perché non poteva andare tra la folla che poi non era folla eccessiva attenzione sappiamo benissimo che la prima promozione quella con Baroni la gente non ha potuto vivere la promozione non ha potuto vivere l'anno dei record il vero anno dei record che era il girone di ritorno e soprattutto non ha potuto vivere la serie A secondo me questo ha creato psicologicamente quel distacco maggiore poi c'è il Covid poi c'è la squadra discontinua che non prende quelli che per me non sono tifosi ma sono gli occasionali che ti fanno numero perché gli occasionali ti fanno numero prima Mimo diceva che il Napoli ha fatto quegli spettatori perché c'era una squadra importante come l'Inter e quindi ci sono anche quelli ci sono più fattori ma il vero distacco io lo vedo nel non poter vivere la serie A e quindi nel rigetto nei confronti della serie B e di questa serie B qua dopo una B di record e dopo una serie A che nel girone di andata avrebbe fatto impazzire tutti i tifosi perché era una squadra fino a gennaio era addirittura a un certo punto a 10 punti dalla terzuna bravissimo bravissimo secondo me è questo psicologicamente perché non vedo altro spesso ho sentito da qualche parte no la società non attira però poi non lo percepisco perché nei messaggi anche nella gente che mi ferma c'è molta stima nei confronti di Vigorito della società non credo sia sia questa la motivazione secondo me c'è proprio un distacco nei confronti del calcio perché il calcio colpa del covid ha privato un'emozione così forte come quella della serie A è l'unica spiegazione che io mi do a questi numeri troppo bassi troppo bassi perché c'è il covid quindi dici si è sviluppata un'abitudine al distacco sì perché non vedo altro non vedo contestazioni alla società non la percepisco non la leggiamo non la vediamo e noi i messaggi sono trasparenti veramente facciamo passare di tutto tranne vabbè poi cose offensive e che cosa c'è i risultati e vabbè dai l'anno di Bucchi pur era un Benevento molto discontinuo eppure i tifosi c'erano il covid ok ma non parliamo dei risultati di numeri di Ascoli Lecce Frosinone Benevento potenzialmente può dare di più un po' la provincia che ha i limiti legati al covid e un po' sai ti vedi la serie A dal divano e allora ti vedi anche la serie B e io dall'esterno ripeto sempre senza fare proclami a Benevento manca la scintilla probabilmente la squadra l'ha data in parecchie circostanze manca la scintilla della città nei confronti della squadra manca in questo momento è mancata in questi mesi e l'auspicio è che possa arrivare in primavera questa scintilla che possa anche aiutare la squadra a fare ancora di più i giorni trasettimanali non aiuteranno però vediamo in primavera cosa accade va bene guardiamo un attimo il consueto quadro del settore giovanile del Benevento eccolo qua primavera girone B Benevento che ha battuto lo Spezia 1-0 guardiamo la classifica questi sono gli ultimi turni con classifica Benevento che è quinto in classifica a 24 punti con Lazio che prima a 32 questo è il campionato primavera ed è il quinto posto in questo campionato diciamo il peggiore tra i risultati di tutte le giovanili del Benevento perché andiamo oltre Under 17 Lazio batte qui c'è una sconfitta ma il Benevento è al terzo posto come vedete Lazio 36 Roma 33 Benevento 31 partita combattuta contro la Lazio capolista c'è un 3-2 finale ma il Benevento qui è terzo in classifica Under 16 il Benevento anche qui è terzo a 21 punti ha vinto 7-1 in casa del Cosenza devo salutare un napoletano che mi ha fermato oggi per strada il padre di Bruno Ciprio attaccante dell'Under 16 del Benevento che ha segnato anche un gol e che è uno dei giocatori più promettenti del Benevento Under 16 napoletano e quindi lo salutiamo vi facciamo in bocca al lupo c'è anche l'Under 15 eccola qui qui Napoli è secondo in classifica 22 punti dopo la vittoria a Reggio Calabria per 4-1 quindi come vedete terzo posto Under 16 terzo posto Under 17 secondo posto Under 15 quinto posto in primavera mi sembra che il Benevento prosegua la sua marcia trionfale nelle giovanili in tutte le categorie quindi complimenti al responsabile Diego Palermo e a tutti i dirigenti del settore giovanile per quello che fanno siamo in chiusura insomma Jacopo ti abbiamo conosciuto un po' meglio dal punto di vista tecnico tattico umano insomma tu sei sposato hai una bambina o un bambino? una bambina di un anno due anni nata a Lecce? è nata a Bari in realtà è nata a Bari perché è mia moglie di Bari però insomma è nata e cresciuta a Lecce che crescerà a Lecce in futuro l'hai conosciuta nel tuo periodo leccese? no nel periodo di Bari ah nel periodo di Bari e senti di Lecce cosa ti piace particolarmente? hai preso casa dove? al centro oppure più nei pressi del mare? leggermente fuori però sempre a Caglia? quella zona lì a Caglia c'è la Caglia con il futuro no un po' un po' vicino una vita e mezzo fra la Caglia e la città insomma ecco quindi come nei pressi del mare molto belle in campo o meno però ci sono buone possibilità siamo appena a lunedì chiaramente e anche secondo me però guarda secondo me conoscendo imparando a conoscere un po' Caserta dovesse essere in condizione secondo me giocherà al posto di Calò però poi lunedì e cioè domani martedì mercoledì giovedì venerdì sabato insomma poi Caserta è uno che lui può confermare la formazione la decide il giorno stesso della partita quantomeno gliela comunica perché si porta sempre delle indecisioni però dovesse stare star bene secondo me giocherà al posto di di Calò perché Caserta non si priverà mai di Acampora l'ha messo in campo con due giorni di allenamento e di Ionizza tu in allenamento una curiosità quando ti alleni in un centrocampo a tre giochi centrale o mezzala proviamo un po' tutto proviamo quindi sia quello che quello sia quello che quello va bene vogliamo sentire un attimo Caserta prima di chiudere sulla partita con il Lecce e sul momento del Benevento in relazione anche alla classifica di Serie B sentite cosa ha detto Caserta non pensiamo agli altri pensiamo soltanto a noi anche il Lecce deve aver paura di affrontare il Benevento sentiamo ma noi innanzitutto dobbiamo pensare a quello al nostro percorso a quello che dobbiamo fare noi non pensare al percorso degli altri al cammino che fanno le altre squadre perché noi su quello possiamo fare ben poco possiamo solo cercare di migliorare il nostro le nostre partite il nostro atteggiamento durante la gara e pensare solo a noi stessi e andare a giocare a Lecce non sarà facile e non sarà facile neanche per loro perché si affronteranno due squadre tutte e due squadre forti il campionato di Serie B è talmente strano e difficile che l'errore più grande da non commettere soprattutto è quello di pensare agli altri non bisogna guardare le altre squadre bisogna pensare al nostro percorso e quello che chiedo sempre ai ragazzi è che dobbiamo continuare a lavorare perché la partita di Alessandria non mi è piaciuta come non è piaciuta neanche ai ragazzi perché sanno hanno capito cosa possono fare in questo campionato lottando come hanno fatto oggi su ogni palla sbagliando su alcune cose ma è normale facendo anche delle cose buone come hanno fatto oggi e continuare a crescere piano piano sicuramente i nuovi arrivi avendo una settimana di tempo per lavorare possono integrarsi ancora di più sia negli schemi tecnico-tattici ma soprattutto anche dal punto di vista fisico perché Farias ad esempio Farias è uno che da tanto tempo che non gioca che non si allena e ancora non ha il ritmo partita quindi c'è una settimana di tempo per poter far lavorare anche lui e allora avete sentito Fabio Caserta noi ringraziamo Jacopo Petriccione in bocca al lupo per questa avventura col Benevento so che possa finire nel migliore dei modi e anche per la tua vita personale grazie mille davvero è stato un piacere essere qua grazie il piacere è tutto nostro grazie a Sonia Lantella Sonia gli appuntamenti ovviamente quotidiani con le informazioni sportive di avvicinamento al match di domenica prossima a Lecce che è un big match anzi è il big match della serie B della giornata di serie B e quindi è tutto da gustare fino a domenica e poi da seguire ovviamente allo stadio Via del Mare o in televisione e Sonia Lantella sarà come sempre a seguito del Benevento già da sabato a Lecce Sonia buon lavoro grazie e buona serata a tutti sperando in un risultato importante perché Lecce è una tappa secondo me fondamentale per il Benevento è vero e io dico sempre se non si riesce a vincere l'importante è non perdere ecco quando si tratta di questi incontri perché quando pareggio in casa pareggio in trasferta uno scontro contro una diretta antagonista è chiaro vincere sarebbe la svolta ma l'importante è non perdere questo è una cosa perché non devi consentire a chi sta davanti a te di incrementare il vantaggio perché a quel punto con la vittoria in Lecce volerebbe in classifica rispetto al Benevento speriamo anche in una risposta in termini di prestazione c'è bisogno di equilibrio grazie a Giancarlo Zotti ex ala del Benevento che sarà anche lui al Via del Mare a seguire il suo Benevento vedete come è sempre molto hai ascoltato sì ho ascoltato sei molto attento ma si vede si vede che ce l'hai nel cuore il Benevento no è l'occasione è una bella partita quindi sarà senz'altro una bella partita quindi sono quelle partite che sono belle da vedere quindi poi ci facciamo una passeggiata il domenio l'orario alle 3 si può tornare in giornata magari sia una bella giornata lì si sta meravigliosamente bene ma poi si può andare e tornare in giornata quindi andremo a fare questa passeggiata e grazie a Mimmo Malfitano dalla Gazzetta dello Sport Mimmo grazie a voi per questo invito per me è sempre come dire entusiasmante partecipare alla vostra produzione perché mi dà l'opportunità di immeggermi in un mondo che per motivi ovvi seguo ma non proprio da vicino e quindi essendo io poi un grande sostenitore del calcio campano perché io tifo per tutte le squadre campane è un qualcosa che ho dentro da ragazzo perché sono nato con le categorie inferiori e quindi ho lavorato in C2 in C e quindi poi mi sono ritrovato con Antonio Sasso il vostro Antonio Sasso mi sono ritrovato un bel giorno al cospetto di Rudy Kroll perché mi mandò allo stadio per seguire e mi ritrovai con Kroll quindi grazie a voi per questo invito e ovviamente auguro al Benevento le migliori fortune e incrociamo le dita per domenica ti piace la birra Jacopo scusa se ti ho già salutato ma ti risaluto non è un problema sì sì è una birra particolare è allo zafferano è una produzione molto ma molto particolare va bevuta gelata si chiama Maganuce perché porta il nome della prima strega di Benevento quindi anche questo nome Maganuce è di buon auspicio www.maganuce.it per acquistarla perché c'è la possibilità di acquistarla e noi la regaliamo a Jacopo Petriccione che possa portare fortuna a te e al Benevento grazie ascolta ti racconto quest'aneddoto di qualche mese fa fui invitato sono venuto al tuo posto c'era Glick e il Benevento era la vigilia e la trasferta di Crotone e il suggerimento di Sonia fu se dovessimo battere il Crotone berremo berrete voi nel Pullman la birra e mi pare che ci fu anche un collegamento poi dopo durante il viaggio di ritorno se non mi sbaglio telefonico con uno di voi che non so se sia vero o meno ma bevevano birra ma ganuce a Jacopo Petriccione e invece io che sono uno che ha dei pregi ma anche tanti difetti ho il difetto di non ricordare tutti i cognomi soprattutto se si tratta di registi aiutoregisti audio quindi me li hanno scritti qui li potete vedere sono scritti qui e quindi non ci vuole nulla a reggerli guarda regista Orlando Matarazzo operatore Fabrizio Angrisani audio Paolo Romano e grafico Giuseppe Andrita li ringraziamo tutti così come ringraziamo tutti voi per averci seguito l'appuntamento è a lunedì prossimo con 8 gol buona settimana e forza Benevento con il Lecce buonanotte con il Lecce con il Lecce